Nuovo screening dedicato al mondo della scuola. Mentre si appresta a partire la vaccinazione AstraZeneca per insegnanti e personale della scuola, il Comune dell'Aquila mette in campo una nuova campagna di screening dedicata agli studenti delle superiori e al personale docente e non docente, naturalmente con tutti i punti interrogativi del caso. Tutto dipenderà dalle prossime indicazioni che arriveranno. Lo screening è stato organizzato comunque perché se non ci saranno nuove evoluzioni, gli studenti dovranno tornare in presenza al prossimo 22 febbraio. Le giornate indicate dal Comune sono venerdì 19 febbraio e sabato 20. Proprio facendo riferimento a quella data di riapertura che noi intendiamo sottoporre nuovamente la popolazione studentesca, il personale docente e non docente a un nuovo screening. Ormai è chiaro che per intercettare il virus bisogna testare e tracciare quanto più possibile. Noi già abbiamo fatto test su circa 30.000 persone nella città dell'Aquila, lo ripeteremo ancora, se sarà necessario sarà replicato altre volte. L'obiettivo qual è? È capire anche l'andamento del contagio alla luce dei fenomeni che si verificano. Abbiamo avuto prima le feste di Natale e abbiamo fatto lo screening intorno alla Befana, adesso abbiamo avuto il periodo in zona gialla, testiamo di nuovo i ragazzi in vista della riapertura. È normale che se la riapertura dovesse slittare anche lo screening potrebbe subire un differimento dei tempi. Per il momento in città le persone sottoposte a test sono state quasi 30.000. I punti di somministrazione in questo caso saranno sicuramente la palestra del liceo scientifico ed eventualmente quella dei geometri, la palestra dell'Ipiassar, il muspo del Cotugno in via Ficare e forse sarà riattivato anche il drive-thru di Monticchio della Croce Rossa. L'obiettivo della campagna è scattare una fotografia dal punto di vista sanitario ma anche fornire uno strumento importante per il ritorno eventuale in presenza.